Ciao a tutti e bentornati sul canale YouTube di noi che usiamo Lightburn. L'ultimo video che ho fatto era quello di creare delle immagini con l'intelligenza artificiale. Vi avevo chiesto che se l'argomento vi era piaciuto di manifestarmelo con dei like, con dei commenti, eccetera eccetera e mi sembra, e con molta gioia lo dico, che avete apprezzato molto questa iniziativa. Per cui sono qui con la seconda parte, e non sarà l'ultima, ritengo, dell'argomento sulla creazione di immagini o di altre cose che vedremo con l'intelligenza artificiale. Nel video passato abbiamo visto alcune immagini fatte, diciamo un po' così, a 360 gradi, un po' a caso, non era proprio a caso perché volevo farvi conoscere questo programma, che non serve nemmeno scaricarlo, ma ci si può accedere con un browser normale, basta avere un account Google, e andare in collab. Chi non ha visto, chi se l'è perso, metto sopra il link per andarlo a rivedere. In questo video invece andremo un pochino più in qualche dettaglio in più. L'altra volta sono andato per Sommi Capi, questa volta vi farò vedere qualcosa di un pochino più particolare, in modo che affiniate la vostra creatività e potrete fare le immagini come volete voi per poi portarle sul vostro laser, inciderle, tagliarle, eccetera, eccetera. Ma andiamo a vederle. Questa volta ho già preparato un po' di immagini, praticamente dell'output del programma, in modo da non farvi perdere troppo tempo nel frattempo che le varie immagini si vanno a formare e per riuscire a fare risparmiare un po' di tempo. Perché oggi è ferragosto, io sono qui a registrare questo video, ma lo faccio con immenso piacere, anche perché fuori piove, quindi non posso andare al mare, e quindi diciamo che unisco l'utile al dilettevole, cioè il fare il video e non andare a prendere dell'acqua al mare perché sta piovendo. Ok, allora, prima immagine che vi faccio vedere è che è questa, è un'immagine che ho fatto con più o meno tutti quei parametri degli stili che avevo fatto vedere la volta prima, che è il Focus V2, che praticamente vi spiego che cos'è. Il Focus V2 è un miglioramento delle immagini di Focus, cioè è un upgrade in più. Poi ho Focus Enhance, che praticamente anche questo è un ulteriore miglioramento, Sharp che evidenzia le ombre, e poi ho aggiunto io due stili diversi che sono MK Coloring Book, cioè che sono praticamente uno stile come da colorazione di libri per colorare come quello dei bambini, e 6 comic books. Questo insieme di settaggi, quindi di stili, ho messo un prompt che dice in inglese black and white image, quindi immagine in bianco e nero, di un gufo su una pianta di quercia. Questo è quello che mi ha tirato fuori con questi settaggi, quindi praticamente con V2 di Focus, con Lenance di Focus, con Sharp di Focus, e più con MK Coloring Book e Sai Comic Book, che sono due settaggi un po' particolari. Questo è il risultato. Come vedete, l'unica cosa sono la colorazione degli occhi che è gialla, ma praticamente se lo andiamo a passare sul laser sarà di un grigetto che si differenzia un pochettino dagli altri. Però l'immagine è carina, a mio avviso. È molto fotorealistica. Adesso vi faccio vedere quello che vi ho detto nel primo video, che come vi dicevo ve lo rimetto qui sopra, per chi si è perso l'altro video si è perso anche all'inizio del video. Quindi, se volete andare a vedere, lo rivedete. Lo rimetto anche nella playlist, perché mi sembra di capire che vi piaccia, e quindi andrà avanti anche con altri video, anche con altre intelligenze artificiali. Allora, questa cosa l'ho fatta in questo modo. Adesso andiamo a vedere il passaggio successivo, ovvero sia qualcosa di più attinente al nostro mondo che quello del laser. In questa seconda immagine, io ho lasciato il prompt uguale, identico a quello di prima. Ho cancellato tutti gli stili e ho lasciato solamente Sci-Line-Up. Vedete che mi fa sempre quegli occhi giallini, come vedete. Però è proprio più una qualcosa fatto più a matita, sembra quasi. Quindi non è più una fotografia fotorealistica, ma è più un disegno. E secondo me questa tipologia di disegni, di immagine, si presta molto per poi poterla andare ad incidere sul laser. Io ho fatto l'esempio del gufo, perché non volevo fare foto di personaggi, persone, eccetera, eccetera. Quindi volevo fare un po' questi disegni. E qui vediamo che ho Sci-Line-Art, che è l'unico che è fleggato e che praticamente è quello che mi fa comporre, e come vedete ho messo solamente due immagini per far prima e per non stare a fare tanti confronti. Quindi ho il gufo, quello di sinistra, che è leggermente più piccolo, quello di destra è più in primo piano, però sono molto dettagliati e sono, a mio avviso, abbastanza fruibili per poterli lavorare con il laser. In questa immagine che vedete adesso ho leggermente modificato il prompt, cioè ho tolto il fatto che doveva essere su una pianta di quercia, o che è la quercia, o il gufo, e praticamente dico fammi un gufo in bianco e nero con lo sfondo bianco. E lui mi ha fatto queste due figure, che anche queste, sempre con Sai, Line-Art, che vedete come stile che ho fleggato, vengono fuori questi altri due gufi, che anche questi, a mio avviso, sono molto carini, come stile, lasciate perdere il soggetto, non ho molta fantasia di queste cose, ne è venuto di fare il gufo, che magari può venire bene per qualche festa di laurea, che è quello che evidenzia un pochettino il discorso dei laureati. Allora, anche questo è abbastanza carino, secondo me con un laser viene bene, e poi voi mettete il soggetto che volete, però io vi voglio far capire un po' come funziona la cosa, senza tediarvi troppo con composizioni, eccetera, eccetera. Molto semplice, molto veloce, molto fruibile. Quarta immagine, gattini, cioè ormai su internet i gattini sono dappertutto, quindi su Facebook, eccetera, eccetera, ci sono tutti i gatti. Io qui ho scritto anche qui black and white, immagine, immagine bianco e nero, di un piccolo gatto che gioca con un gomitolo di lana. Ecco, effettivamente mi ha fatto, sempre con Sai Line Art, mi ha fatto questi due disegni, che a mio avviso sono abbastanza carini, a chi piacciono i gatti? A me piacciono più o meno, piacciono più i cani. E vabbè, comunque ho fatto questi gatti. Sono abbastanza facili, veloci, vedete anche il prompt è molto secco. Ho tolto tutto il discorso degli stili, lasciando solo Sai Line Art. Andiamo alle prossime immagini, perché, ve l'ho detta, non ve la voglio far troppo lunga. Qui ancora gattini, con il solito prompt, ovvero sia black and white image, cioè immagini bianco e nero, con un gattino che gioca con un gomitolo di lana. Qui ho dato, ho voluto provare uno stile un po' particolare, che è lo stile Mario. Lo stile Mario riprende un po' lo stile di Super Mario del Bros, e infatti nel primo si vede, c'è addirittura un collarino e con il pugnetto in alto, che mostra i vari gomitoli di lana, anche se ho detto che gioca con un gomitolo me ne ha fatti tre. Anche questo è molto carino, nel primo c'è anche quella smorfia un po' particolare, nel secondo sembra quasi un po' annoiato, vabbè. Questo, come vi dicevo, ho usato come stile il Mario Mario, game Mario, cioè praticamente una simulazione del gioco di Mario Bros. Andiamo avanti con il prossimo. Allora, in questa fotografia, io ho chiesto a Focus di farmi una, come si vede nel prompt, un'immagine bianca e nero di una giovane donna, bionda, di una giovane donna bionda, che assomiglia a Marilyn Monroe. E ho fatto, ho selezionato due stili diversi. Quello che abbiamo visto prima, il Seiline Art, che come vedete è flegato, e M.K. Andy Warhol. Andy Warhol è famosissimo per un ritratto simile a questo, perché aveva ritratto Marilyn Monroe con dei colori particolari. Noi lo dobbiamo fare in bianco e nero se lo vogliamo lavorare sul nostro laser, per cui ho fatto questo. e vi dico, avevo già fatto qualche prova con dei ritrati di Marilyn Monroe, con delle lavorazioni un po' particolari, le ho lasciate perdere, ne riparlerò, però sicuramente di questa, appena mi arriverà un laser che sto aspettando, che potrebbe aiutarmi a fare questa cosa, proverò anche a inciderla in qualche modo. Sapete che io non sono un amante delle incisioni delle foto, ma una di queste la vorrei provare, perché questa Marilyn, che non è la Marilyn autentica, quindi ve la potete anche fare senza anche vendere questa immagine, un'immagine semina questa, senza paura di qualcuno che recrimini i diritti di autore. Mi piace, ha dei bianco-neri veramente belli, con dei riflessi, guardatevi, quelli sulle labbra, che sono veramente fatti bene, ma andiamo a vedere anche la prossima. Mi era piaciuta così tanto che ne ho provato a farne un'altra. Ho provato a fare sempre la, più o meno, un black and white close up, quindi primo piano, quindi gli ho dato un qualcosa di più pregnante al prompt, di una donna bionda che assomiglia a Marilyn Monroe. Questa volta ho fatto sempre con Sciline Art e ho messo sempre MK Andy Warhol. Francamente queste due mi piacciono un po' di più perché hanno uno sfondo uniforme e non come quella di prima che simulando ancora meglio l'arte di Warhol erano metà di un colore e metà di un altro. Questi invece sono praticamente omogenei di sfondi. mi piace l'espressione, è veramente bella e mi piacciono anche quegli effetti che ha sulle labbra che sembrano, anche se bianco e nero, sembrano veramente molto lucide. Veramente bella questa foto, a mio avviso. Poi a voi può non piacere e io dico la mia. Andiamo avanti con la prossima foto. Anche questa foto, cioè anche per questa immagine, per meglio dire, non è una foto, è un'immagine, ho usato il Sciline Art sul quale, come vedete, mi sono focalizzato abbastanza su questo perché secondo me si viene a lavorare bene con i nostri laser. E ho chiesto a Focus di farmi un'immagine bianco e nero della faccia di una giovane donna con dei lunghi capelli scuri. Qui ho scritto brown, quindi sì, marroni, scuri. Allora, come vedete, questi due volti sono veramente belli perché sembra quasi uno schizzo di matita e ha dei bei chiaroscuri, eccetera, eccetera. Secondo me, anche questa è una bella immagine per poter incidere con l'ase specialmente se usiamo oborace oppure bicarbonato per scurire un po' l'effetto dell'inciso. Ultima immagine per questo video con un nuovo stile che è Pencil Sketch Drawing, ovvero sia un schizzo tracciato a matita. Questa è la traduzione letterale di Sketch Browning. Pencil Sketch Drawing. Scusate un attimino. Allora, qui ho fatto semplicemente black and white image of a cat cioè un'immagine in bianco e nero della testa di un gatto. Non mi sono nemmeno stato a soffermare molto con il prompt. Ho proprio quattro parole secche. Come vi ho sempre detto, preferisco farle in inglese e poi in italiano può tradurmerla in inglese, ma questa frase qui penso che tanti di noi riuscirebbero a scriverla senza bisogno del traduttore. Come dicevo, ho utilizzato questo Pencil Sketch Drawing e anche qua, vedete, è abbastanza fatto bene. Secondo me, se andiamo a passare questa immagine su ImageR oppure anche con un semplice algoritmo all'interno di LightBurl come può essere un Jarvis o uno simile, un puntinato simile, secondo me vengono molto, molto, molto belli. Sono belle tutte e due anche le espressioni dei gatti. Io, come vedete, ho scritto pochissimo, non li ho ambientati perché queste cose per capirle meglio come funzionano anche i vari stili è meglio lasciarli i più puliti possibili perché altrimenti magari mi mettono alle spalle degli sfondi, mi mettono alle spalle tante cose di cui io non ne ho bisogno. Allora, io con questa immagine chiudo questo video. Vi chiedo se vi piace questo tipo di argomenti. Vedete, ce ne sono tantissimi di, come ho visto, vi ho fatto vedere l'altra volta, tantissimi di stili da poter provare, eccetera, eccetera. Vi invito anche voi a provarli, a divertirvi e a inventarvi qualche immagine particolare. Ce ne sono tantissime. E provate magari a fare quelli che ho fatto io, magari con qualche variazione sul prompt, eccetera, eccetera, per vedere come vi vengono e poi magari provarle anche ad incidere. Io proverò ad incidere qualcuno di questi, poi magari vi farò vedere i risultati in altri video successivi di quella che diventerà la playlist dell'intelligenza artificiale. Perché ho altre cose a mostrarvi con l'intelligenza artificiale. Questo è un secondo assaggio molto, molto, molto basilare. Mi adentrerò piano piano sull'argomento in modo da intervallare un po' tutorial di Lightburn, tutorial di Laser e anche qualcosa che però è sempre attinente al nostro mondo. Io adesso vi lascio mi raccomando like, iscrivetevi al canale perché adesso c'è un motivo in più perché adesso ci possono iscrivere anche chi è appassionato di intelligenza artificiale e di immagini e di creazione con intelligenza artificiale. Ho una sorpresa per voi ci sarà fra qualche settimana perché la sto preparando sempre riguardo l'intelligenza artificiale che vi farà ancora divertire di più. Io vi lascio ciao a tutti like iscrizione campanella adieu